Ciao, andiamo a cucinare un piatto di spaghetti italianissimo, come la tarantella. Italiani, mangiamo molta pasta. Questo è il pomodoro che fa bene per il succo. Miracolo! Eccolo qua. Il uomo. Il peperoni. Il burro. Il burro. E quando abbiamo tutto l'ingrediente più importante, la mamma, puoi cucinare tutto. Mamma mia! Fiesta d'Italia in tienda inglesa. Exquisito Jamón Crudo Riviera 100 gramos 88 pesos con Club Card 71 pesos. Mozzarella de búfala 100 gramos 99 pesos con Club Card 79 pesos. Vino Caldora Sangiovese o Monte Pluchano Babruzzo 750 ml 379 pesos con Club Card 303 pesos. Fiesta d'Italia in tienda inglesa.